Primo tavolo tecnico oggi a Roma tra il consigliere del ministro Salvini Davide Bordoni, l'ANAS che gestisce le autostrade a 24 e a 25 e il comitato dei sindaci che sta conducendo la battaglia dal 2018 contro il caro pedaggio e per la messa in sicurezza delle importanti infrastrutture viarie. Un incontro convocato nei giorni scorsi che è stato ovviamente interlocutorio ma che permetterà di entrare nel vivo dei problemi. I rappresentanti del comitato di amministratori di Abruzzo e Lazio sono stati ricevuti a Roma intorno alle 11.30, capeggiati dal sindaco di Carzoli, Velia Nazarro. I temi sono stati sempre gli stessi, quelli affrontati, riduzione delle tariffe, messa in sicurezza e tutela dei posti di lavoro, questione richiesta a gran voce dagli amministratori del comitato. Per quel che riguarda le tariffe, grazie all'intervento del comitato stesso, sono bloccate al 31 dicembre del 2017 ma nonostante questo i costi sono ancora elevati e quindi si vuole almeno l'abbattimento di un terzo. Per la gestione il comitato insiste sulla tutela dei posti di lavoro. Fino al 31 dicembre del 2023 infatti sarà l'ANAS a gestire le autostrade, poi dovrebbe subentrare una nuova società, una GNUCO. C'è una moderata soddisfazione per il tavolo perché insieme si programmerà un lavoro sia per la messa in sicurezza che per la riduzione delle tariffe. Da parte degli interlocutori, insomma, a Roma c'è stata una certa apertura nei confronti di quelle che sono le richieste del comitato.